Che cos'è la lesmaniosicanina? Ciao, mi chiamo Gianluca Barbato, sono un medico veterinario e sono il fondatore del centro studi sulla lesmaniosicanina. La lesmaniosicanina è una malattia parassitaria che il cane contrae attraverso il morso di un insetto vettore che appartiene al genere pappatacio. Questo insetto si trova in tutto il territorio italiano, ma non solo, anche nel sud della Spagna, nel sud della Francia, addirittura ci sono segnalazioni in Germania e nel nord della Francia. Questo insetto si infetta da animali chiamati naturalmente infetti. Oggi molti articoli dimostrano che possono essere coinvolti roditori e lagomorfi. Una volta infettato nel periodo primaverile, estivo e autunnale morde un cane, magari a passeggio, magari al parco, magari è nel tuo giardino e se il cane è sensibile all'infezione il parassita penetra all'organismo del cane e sviluppa. C'è una differenza tra gli animali che non prenderanno mai la malattia e animali invece che la svilupperanno. Infatti quando il parassita viene iniettato dal morso dell'insetto vettore ci sono animali in grado di sconfiggere questo parassita e quindi non svilupperanno mai la malattia, ma ci sono animali invece in cui il cui sistema immunitario, invece di contrastare l'infezione, l'aiuta a sviluppare. A questo punto questo parassita verrà inglobato all'interno delle cellule infiammatorie dell'organismo che invece di distruggerle le veicolerà per tutto l'organismo portandoli nel midollo osseo, portandoli nelle ossa, portandoli nelle articolazioni, nel fegato, nella milza e da lì la reazione infiammatoria che si innescherà piano piano porterà ai sintomi dell'infezione. Questo fa sì che la malattia non si sviluppi il giorno dell'infezione ma ci vogliono addirittura mesi o anni per avere i sintomi. Tutti i sintomi relativi non tanto alla presenza del parassita nel corpo del cane ma alla risposta del sistema immunitario. Il centro studi per la lesmonosi canina studia appunto questo equilibrio tra cane e sistema immunitario e trova delle terapie personalizzate per riattivare il sistema immunitario del cane e permettere la guarigione spontanea del paziente. Se necessario forniamo anche terapie antibiotiche per uccidere il parassita. La particolarità del nostro centro è di trovare terapie personalizzate per limitare al massimo gli effetti collaterali che di norma si vedono con le terapie tradizionali.